Marco Mengoni, ospite di Che Tempo Che Fa, è stato protagonista di un presunto scoop in merito alla sua vita privata sulla quale ha sempre mantenuto il massimo riservo . Il cantante Marco Mengoni è stato paparazzato in compagnia di un misterioso ragazzo che, secondo i principali giornali di gossip, potrebbe essere il suo fidanzato Mengoni, diventato famoso grazie ad X Factor e poi consacrato nel mondo della musica italiana con tanti successi discografici, al momento non ha ancora fatto Coming Out, ma le voci sulla sua omosessualità si rincorrono da tempo Molti pensavano che dopo l'atto di coraggio di Marco Carta che davanti a Barbara D'Urso a Domenica Live ha fatto Coming Out dicendo al mondo di essere omosessuale anche altri cantanti che ancora non hanno fatto il passo decisivo avrebbero potuto prendere esempio e raggiungere personaggi del calibro di Ricky Martin e Tiziano Ferro tra quelle che hanno deciso di abbattere il velo sulla loro vita privata Evidentemente Marco Mengoni al momento ancora non se la sente di farlo e nessuno può dire nulla su scelte estremamente personali Sta di fatto che secondo i paparazzi del sito tabloid che hanno immortalato Mengoni con questo ragazzo l'atmosfera a cena tra i due era molto intima e romantica I due sono stati ripresi insieme tra gli scaffali dell'S Lunga e poi a cena in un ristorante argentino Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like